Importante riconoscimento per Non Sei Sola Battipaglia, associazione che si batte contro la violenza sulle donne. Nell'ambito della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, la realtà sarà insegnita presso il Teatro Augusteo di Salerno del premio Il Sociale per il Territorio. Il riconoscimento è stato attribuito dal Comitato Tecnico per l'impegno mostrato nel campo della lotta contro la violenza. Non Sei Sola Battipaglia è un'associazione di promozione sociale nata nel 2012 con lo scopo di supportare le donne oggetto di violenza. Grazie alle professioniste che ne fanno parte ha attivato uno sportello antiviolenza di prima accoglienza, offrendo gratuitamente aiuto, sostegno relazionale, psicologico, legale, alle donne vittime di maltrattamenti che si trovano in situazioni di difficoltà anche quando accompagnate da minori. È inoltre impegnata sul territorio con numerosi incontri per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del femminicidio e delle violenze di genere, insistente in particolare sulla popolazione studentesca, argomento oggi di tragica attualità. Ringraziamo tutti coloro che credono in chi si batte per un ideale, dicono le associate. Questo premio è un riconoscimento della volontà, per chi chiunque ha volontà di fare migliorerà il mondo attorno a sé. Grazie.